Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi, purtroppo, dobbiamo condividere una notizia che ci tocca profondamente. Francesco Ploeger, un giovane uomo che sarebbe giunto al traguardo dei 23 anni il prossimo agosto, è stato strappato alla vita in modo tragico e improvviso a causa di un arresto cardiaco. Francesco era un pilastro all'interno della sua famiglia, proprietaria del rinomato negozio e mille cose a Folgaria, un punto di riferimento locale che ha visto l'impegno di generazioni. La sua dedizione e il suo ardore nel contribuire alla gestione familiare erano inequivocabili. Quando la sua assenza, insolitamente prolungata, ha suscitato preoccupazione, una verifica ha rivelato la gravità della situazione. Nonostante la rapida risposta e gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. La perdita di Francesco ha lasciato un vuoto incommensurabile nella comunità di Folgaria.